Il 13 luglio 2021 è già stato consegnato agli annali come la data che ha messo un punto fermo sul passaggio delle grandi navi a Venezia. Ma esaurita l'onda lunga delle reazioni a caldo, c'è chi si comincia a domandare cosa preveda nello specifico il decreto del governo, visto che a tutt'oggi il testo non è disponibile. Come rileva Giovanni Leone, architetto e presidente di Dove, associazione di residenti di Dorso Duro, sestiere bagnato dal canale della Giudecca dove per anni è passata la croceristica. Tutto il mondo ha commentato favorevolmente la presa di posizione del governo italiano e questo decreto che allontana le navi della laguna e le porta a Marghera, un decreto che non c'è, c'è soltanto una bozza ricca di punti interrogativi e di puntini di sospensione. La ricerca di una soluzione definitiva sul passaggio delle grandi navi a ridosso di Venezia pare aver preso una forte accelerazione dopo l'ultima atomo UNESCO che minaccia l'inserimento della città tra i siti patrimonio dell'umanità in pericolo. In realtà l'impatto della croceristica in laguna non è l'unico motivo per cui Venezia viene considerata in pericolo, ma l'argomento ha comunque monopolizzato il dibattito anche a livello internazionale. Addirittura l'UNESCO pare sospenderà la decisione di inserire Venezia nella blacklist dei siti patrimoni dell'umanità a rischio sulla base di un sentito dire, perché questo decreto non è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale né figura nel sito del governo dove c'è un semplice annuncio con i principi, le buone intenzioni.